Non si ferma la faida di pianura che in poco più di mesi ha fatto contare ben tre omicidi nel quartiere a ridosso dell'area Flegrea a ovest di Napoli. Luigi Aversano, residente a Rione Traiano, ucciso l'altra sera con diversi colpi d'arma da fuoco, secondo gli investigatori, era vicino al clan Marfellamele, attivo nella zona. Dopo l'agguato, via Padula è stata chiusa al traffico anche per consentire ai carabinieri di eseguire i rilevi necessari. L'uomo era in sella di uno scooter quando i sicari sono entrati in azione scaricandogli addosso numerosi colpi di pistola che l'hanno centrato in diverse parti del corpo. Un ride plateale in una zona molto trafficata nel cuore di un quartiere che è in guerra. Inutile dirlo, nessuno ha visto e nessuno ha sentito. Inutile anche la corsa verso l'ospedale San Paolo dove i sanitari non hanno potuto far nulla per salvarlo. Ma chi era la vittima e come si inquadra questa nuova faida di Camorra? Il 50enne Luigi Aversano aveva numerosi precedenti penali per estorsione e viene indicato come il reggente del clan dei fratelli Mele, la fazione che si oppone al clan Pesce Marfella. La sua uccisione potrebbe essere la risposta ad un agguato avvenuto la scorsa settimana in cui fu gambizzato un 22enne ritenuto legato ai Pesce Marfella.